Intesa sulla sicurezza sul lavoro, l'incontro tra il Premier Mario Draghi con i sindacati segna un primo risultato per affrontare un'emergenza ormai quotidiana, ma segna anche l'inizio di un confronto sugli altri temi aperti, dagli investimenti del PNRR alle riforme. È stato un incontro molto utile per fissare un metodo di lavoro, afferma il Presidente del Consiglio al tavolo con i segretari generali di CGL, CISL e Will, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, sottolineando appunto che sui temi in materia di tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro c'è intesa, soddisfatti i sindacati che già a maggio avevano presentato una piattaforma unitaria per chiedere di fermare la strage, prevenzione e formazione, una banca dati unica per gli infortuni ma anche sanzioni, con la sospensione delle attività che violano le norme sulla sicurezza, in modo che poi possa mettersi in regola ed un'accelerazione per l'assunzione dei 2100 ispettori già programmata. Questi gli interventi che vengono delineati. La strada è quella del decreto, spiegano i sindacati che incassano però anche l'impegno a portare avanti il confronto e discutere delle altre questioni aperte, le riforme e il PNRR e proprio sull'attuazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, su cui le parti sociali avevano da subito rivendicato un coinvolgimento.